Ciao Fiorellini e Fiorelline, oggi è il video di Rachele e vi farò vedere tutto quello che si è comprata qui alla sigla. Ok, allora la prima cosa vi faccio vedere che peserà un pentolo, l'acqua, l'acqua di Rachele, mamma mia altropesa. Poi, la struttura sta qua dentro, allora comprare il parmigiano, una e due, facciamo vedere subito il gelato che qui, in questo caso si squaglia. Questo, che è successo? Si è levato il tè, vabbè, si stava, si è ripartato e si è levato il tè. Ecco, ha comprato il tè al limone e il tè alla pesca, che si sfidano subito qui da... Il tè alla pesca, ho comprato il pane, però lei che piace a lei, morbido. Questa pesca, non basta questo, questo è come si amano? Sai che buono? Uno? Buono, avete? Boh, lo troveremo, vabbè, dovrei restare un altro. E su, su, mi, su mille, come si dice, vabbè, questi qua. Poi, si è preso un profumo prododorante, il zucco di frutta, la bicocca, e si è presa la melinda, che ora io la rubo, perché a me piace la melinda. Poi, un'altra busta, carta igienica. Poi, si è presa questo qua, il tè verde, che è? Poi, si è preso questo qua, la forchetta e il cortello, che ci può mettere la frutta, o quello che vale. Poi, qui l'altro d'idea d'assuro che è. Succo all'arancia, carote e limone. E una pepsi. Poi, questo, mi sono scordata, l'avevo comprato io. Sushi. Ora chiede. Guardate che ho trovato i fighi quando sono grandi. Mamma mia. Il latte di soia, quello che prendo io, che mi sono scordata. E' preso da melinda. Ecco, l'ho trovato. Tre l'aveva presi. Questi qua. Uno, due, tre. Mi sembrava. Mi sembrava che aveva preso uno solo, una cosa strana. Poi, il cocomero. Oddio, si è ribaltato qua. Il cocomero. e l'uva. Ecco, lo scopriamo il rapene. Poi, il succo di frutta. L'altro succo di frutta. L'altro succo di frutta. Eh? Ah, queste, buone queste. E, insomma, è l'unico. Biscotti, che non ci stanno al latte, sono questi, di misura. Qua. Poi. Questa è il bustetto. Questa è la coppia. Ah, questa è la coppia. Ah, beh, questa è la coppia? Tutto? Sì. Allora prima facciamo vedere la struttura lì qua. di Gafur. Ha speso 81 euro. Vabbè, non vi faccio vedere. Spegno, eh, faccio vedere. Ecco, Gafur ha speso 81 euro e 98. Ecco, adesso vi faccio vedere le cose della coppia. Le banane. Bicocche. E abicocche. Frutta mista. Questa ha basta che viene a quella di lì qua. Questa ha comprato corriëlo qua. Le tè . E si è comprata l'aranciata, i fanta. Se, questopra non lo sale. Ha questo, eh? Allora, ora giro e vi faccio vedere questo qua, della coppia. Acqua. E questo qua, lo sai. Ecco, la coppia ha speso 14 euro e 13. adesso è finito questo video spero che vi è piaciuto e niente ciao al prossimo video